Sì, però, con sto suono è chiaramente panico E l'altra zona era messa un po' Ehi, a mette in culo, sai Oh, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mi aspetto dentro Come cazzo sei salito? Porco Dio, bastonato, mardoso cane Madonna, Carmela Mi è venuto un infarto, non ho fatto tempo a riaprire la porta Meno male che stavo registrando Ma... Qualcuno li avvisi, qualcuno li avvisi, per Dio Dovevamo sopravvivere di più su Titan of Dying Deciduto Che cazzo di scena, ragazzi, voi non avete idea Voi non avete visto come è morto Ganon Io per fortuna, appena iniziato a registrarlo, ho filmato tutto Porco Dio, ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo è successo Ma what the fuck Ma perché fa così Che incazzato, ragazzi, fermi Dove sono, dove deve sfammare la roba Ma... Ma incazzato Ragazzi, zitti, zitti Butta giù il robotino Butta giù, butta giù Ma che cazzo Raga, ma chi è morto? Due persone sono morte Non so chi Non è rimasto indietro Non ero io Non ero io Melfo Ma insomma Insomma Non ero io Melfo Non ero io Ci siamo rincarati tutti in tempo 1.308 di Malus Ce l'ho beccato Ragazzi, prepariamoci Adesso vediamo gli esenziati Aspetta, aspetta Ho avuto un'idea Mettiamo gli oggetti Per impedire No! No! Ragazzi, non basta Non basta Non basta Siamo stati firati